Amarezza e rabbia tra gli operatori delle stazioni sciistiche valtellinesi all'ennesimo annuncio del rinvio di apertura della stagione. Investiti tanti soldi per farci trovare pronti, ora una nuova doccia fredda. 600 lavoratori del comparto appesi a un filo e le società impianti alle prese con grandi spese. Dagli addetti ai lavori al mondo della politica una sola richiesta, subito ristori certi e adeguati alle perdite subite. Da oggi le adesioni alla campagna di vaccinazione anti-covid per gli ultraottantenni in affanno il sistema telematico regionale, ma non c'è fretta. Anche medici di base e farmacie attendono notizie certe. In atteso quarto posto di Elena Curtoni nella gara di combinata ai mondiali di sci di cortina. La trentenne di Cosio Valtellino va oltre le previsioni e si conferma la migliore delle azzurre. Ora tocca a Irene. Buonasera dal telegiornale di Unica Sondrio. Una doccia fredda per l'intero comparto turistico. Oggi doveva essere il grande giorno con il sospirato via alla stagione dello sci. Ma così non è stato. Ieri sera il governo ha deciso di bloccare tutto. Questo alla luce dell'ultima evoluzione dei dati sulla pandemia e della preoccupazione per le varianti. Amarezza e rabbia tra gli operatori che avevano preparato le piste e ricevuto già migliaia di prenotazioni online. Immagini surreali, tanta neve, scenari muzzafiato, piste battute alla perfezione dopo una settimana di lavoro e poi quando tutto ormai sembrava pronto nel rispetto delle norme di sicurezza, la doccia fredda con la decisione di non aprire gli impianti alla vigilia del tanto atteso di dei. Così i tracciati nevati sono rimasti deserti, nei ristori le provviste di questi giorni congelate nei freezer, mentre le società di impianti contano le perdite di una stagione disgraziata e centinaia e centinaia di persone hanno perso anche l'ultima speranza di tornare a lavorare. Quella che vedete alle mie spalle, l'asno Eagle, era pronta questa mattina ad entrare in funzione dopo una stagione di attesa ma purtroppo non è stato così. Ieri sera la doccia fredda alle 19. Il ministro Speranza ha deciso. Gli impianti restano fermi. Una grande delusione sia per tutti gli operatori turistici ma anche per le persone che avevano raggiunto la Val Malenco per la prima giornata di sci. Capisco le necessità, le emergenze, ci mancherebbe altro. Se vi guardate in giro vedete cosa abbiamo fatto noi per cercare di aprire in sicurezza. Ci sentiamo un pochino presi per il naso, un po' tanto presi per il naso. Ci aspettiamo dei ristori, di qualcosa, non lo so, se no, anno prossimo si troveranno tutte le persone che vivono in montagna e che lavorano in montagna a Roma a far qualcosa, a chiedere le lemosina, non lo so. Erano già arrivate molte richieste di biglietti? Sì, sì, sono arrivate moltissime richieste. Fra l'altro tutte online come richiesto e ora stiamo provvedendo a rimborsare i nostri clienti. All'incerca quante? Per le giornate di oggi, ad oggi, dovevamo avere sulle 2.000 persone. Oltre a quelli prenotati online ci sarebbero stati quelli che sarebbero venuti direttamente alle nostre casse a fare biglietti. Quindi penso che oggi saremmo arrivati al top sui 3.900 persone che sono le persone che in teoria potevamo ricevere. A quanto ammontano le perdite di questa stagione mancata? Guardi, non ho ancora fatto i conti tanto però perché solo stasettimana per preparare le piste, da quando ci hanno detto prite eccetera, e fra gatti, tutto il resto è dato più di 150.000 euro per la nostra stazione. Un duro colpo per l'intero sistema economico provinciale, in particolare per i 600 lavoratori degli impianti a fune, per i 450 stagionali in particolare richiamati proprio in vista dell'apertura di oggi, il lavoro non è iniziato e sta finendo anche la disoccupazione. Ora, dicono i sindacati, servono ristori adeguati per aziende e lavoratori. Tantissima la rabbia in questo momento, c'è grande sconforto, la realtà è che il pensiero è rivolto a chi non lavorerà. Allora, purtroppo diciamo di sì, ma non solo per quelli che non lavorano perché naturalmente ci sono tanti lavoratori e dietro ogni lavoratore c'è una famiglia che alcuni sono in cassa integrazione, altri invece non hanno più nessun reddito e diventa difficile per loro, ma anche per le aziende perché non si può operare in questa maniera, dire fino a ieri sera alle 7 che aprivi, poi ieri sera alle 7 dici non apri più, anche perché ci sono stati degli investimenti da parte delle società, hanno preparato le piste, hanno preparato anche i self-service e i ristoranti in alto, hanno fatto anche la spesa e pertanto non si può dire dieci ore prima dell'apertura tu non apri, insomma. Poi prima di tutto, per l'amor di Dio, la salute però c'è anche un modo di operare diverso da questo. Sconciarte o amarezza per la decisione di tenere chiusi gli impianti sciistici a poche ore dalla loro apertura, anche da parte di Michele Fedele, coordinatore della FITCISL Sondrio, che ribadisce la forte preoccupazione per i lavoratori, soprattutto quelli stagionali, circa 450 in provincia di Sondrio, il 75% del personale complessivo pari a 600 lavoratori. E se per i 150 assunti esistono gli ammortizzatori sociali, per gli stagionali l'unica copertura e la disoccupazione, che però ha durata limitata e per molti è già scaduta. Chiediamo al Governo adeguati ristori per le aziende, un sistema di ammortizzatori sociali ad hoc per i lavoratori tuona fedele, con un sostegno aggiuntivo al reddito e il prolungamento della disoccupazione. La ripartenza della stagione turistica, bloccata all'ultimo istante, ha creato diversi problemi in Alta Valtellina. Più di 100 assunzioni erano state perfezionate per far ripartire gli impianti di Livigno. Rabbia anche tra gli albergatori e i maestri di sci, che chiedono ristori in tempi brevi. Amarezza, delusione, tutti i sentimenti più negativi che possano esistere in questo momento hanno prevalso da ieri sera a oggi in me, quando c'è arrivata la notizia che l'apertura degli impianti non poteva essere in qualche modo rispettata, così come previsto dall'ultimo DPCM con data 15 febbraio. Così Marco Rocca, amministratore delegato di Motolino, consigliere nazionale di ANEF, associazione di categoria degli impianti a fune. Il giorno della ripartenza si è trasformato nel giorno dell'amarezza. 15 febbraio avremmo dovuto aprire questa mattina, piste preparate, tutto messo in sicurezza, tutta una serie di misure di prevenzione, di accorgimenti studiati e pensati appositamente per questa data, perché volevamo ed eravamo pronti assolutamente per affrontare il futuro e questi due mesi di stagione che ci rimanevano in maniera intelligente, in maniera responsabile, sicura. Purtroppo, come può succedere solo in una situazione come, dico purtroppo, l'Italia, all'ultimo minuto, quindi 12 ore prima dell'apertura, un ministro decide all'improvviso che bisogna cambiare strada, bisogna cambiare soluzione. L'altro ieri abbiamo assunto 110 persone, quindi vuol dire mettere in campo forse lavoro, vuol dire tanto impegno in termini di lavoro. Lo stop all'ultimo istante ha penalizzato anche gli albergatori, tutto era stato organizzato, tutto è stato vanificato, con spiegazioni tecnicamente immotivate da parte di un comitato tecnico-scientifico che ha contraddetto se stesso, spiega Roberto Galli, presidente di Federalberghi Sondrio, associazione attiva all'interno del commercio e turismo. Meglio allora dire fin dall'inizio e con chiarezza che dovevamo restare chiusi per tutto l'inverno, con tempestivi e adeguati ristori, aggiunge Galli. Sembra un accanimento ingiustificato danno dalla montagna, per questa ragione non escludiamo di mettere in campo azioni anche eclatanti. Dura la presa di posizione di Maurizio Bonelli, presidente di AMSI, associazione maestri di sci italiani. Ora ci aspettiamo il giusto e doveroso ristoro dallo Stato, perché gli oltre 15.000 maestri di sci italiani, dopo tutto questo tira e molla delle nostre istituzioni, rimarranno fermi senza lavoro per quasi 21 mesi, da marzo 2020 a dicembre 2021, se si potrà riprendere nel dicembre prossimo. Dare una risposta in tempi rapidi agli operatori turistici è l'impegno preso oggi dai rappresentanti politici del nostro territorio. Lo stop alla stagione turistica ha colto tutti di sorpresa, ora l'obiettivo è trovare una soluzione per sostenere subito un settore strategico per l'economia locale. Fiocca le reazioni politiche sul caso impianti di risalita, dovevano riaprire oggi lunedì 15 febbraio, ma domenica sera la ripartenza è stata stoppata dal Ministero della Salute. Un duro colpo per tutta la montagna, si legge nel post pubblicato sulla propria pagina Facebook da Mauro Del Barba, deputato valtenesi di Tagliaviva. Servono immediatamente di storie adeguate, la situazione e certezze per il futuro. Siamo certi, aggiunge del Barba, che il governo saprà mostrare il cambio di passo rispetto al passato, ridando certezza a chi investe e crede nel turismo e nello sport montani. È il tempo di dare respiro a un'intera filiera messa in ginocchio nei mesi passati, ora servono risposte forti e chiare. Rimangono chiusi gli impianti scistici, questo quanto decretato dal governo, non mancherà però il sostegno agli impenditori montani e gli stori dovranno essere destinati al più presto. Questo è il commento di Giovanni Curro, deputato comasco dei 5 Stelle, in una nota condivisa con gli altri deputati del Movimento. Con la chiusura degli impianti scistici, il turismo della montagna è uno dei settori maggiormente penalizzati dalla pandemia, aggiunge Curro. A causa della decisione di posticipare la riapertura degli impianti, moltissime imprese che attendevano la data del 15 febbraio per riaprire le attività, dovranno attendere ancora ed è quindi urgente un intervento tempestivo che garantisca loro dei ristori celeri e adeguati. Ed ecco il commento di Massimo Sertori, assessore regionale a montagna. Si sono attivati tutti, a partire dagli operatori, gli impiantisti, hanno predisposto e preparato piste, hanno investito soldi, hanno assunto persone, si sono attivati i ristoratori, gli albergatori, i noleggiatori, i maestri di sci, tutto il comparto, tutta la filiera si è attivata e poi a poche ore dall'apertura arriva un provvedimento, in questo caso il Ministro Speranza, che blocca tutto. Ecco, io credo che questo metodo non sia assolutamente accettabile. A favore dei ristori il neoministro al turismo Massimo Garavaglia, che oggi ha incontrato la regione. Per parlare immediatamente di indennizi, perché il danno è rilevante e bisognerà portare avanti immediatamente i ristori indennizi, che devono essere certi, devono essere immediati. La scelta dell'ultimo minuto, a pochissime ore dalla prevista riapertura decisa una settimana fa di rinviare nuovamente la stagione sciistica, dichiara il segretario provinciale del PD Michele Giannotti, presa l'esecutivo nel suo complesso, rende quanto mai urgente procedere da subito con ristori e risarcimento adeguati alle imprese e a tutti i lavoratori che in montagna tengono in piedi un'economia fondamentale per territori come il nostro. Voltiamo pagina ed occupiamoci ora dell'andamento della situazione epidemiologica nel nostro territorio. Continua a scendere la pressione dei ricoveri di malati Covid sui reparti dell'ospedale Morelli di Sondalo. Ad oggi, in forma ASST, Valtellina e Altolario, i degenti sono 57 contro i 66 di venerdì scorso. invariato il numero di quelli ricoverati in terapia intensiva, ovvero quattro. Da venerdì a oggi solo sei nuovi ingressi, una media in calo di appena due ricoverati al giorno, ma ancora tre i morti, tutti uomini, di cui due nati negli anni 30 e uno negli anni 50. In due settimane, dall'inizio di febbraio, la diminuzione dei ricoverati nei reparti dell'ospedale Morelli è stata sensibile da 101 a 57, tanto da consentire la chiusura di un reparto e di riattivare invece altri servizi che erano stati sospesi. Ma oggi era una giornata importante, soprattutto per l'avvio delle adesioni alla campagna di vaccinazione anti-Covid per le persone con 80 anni e più. Molti si sono affrettati, mandando in affanno il sistema telematico della regione. Anche medici e farmacisti sono sotto pressione e attendono indicazioni certe, ma la raccomandazione è che non c'è urgenza. È scattata oggi la fase 1 ter della campagna di vaccinazione anti-Covid riguardante gli ultraottantenni, persone nate nel 41 e anni precedenti. Giovedì le prime somministrazioni. L'esordio non è stato semplice. Nel primo pomeriggio, una volta attivato il sito regionale vaccinazionicovid.servizi.rl.it, quasi 100.000 persone in coda e più di un'ora di attesa, per quanti avevano deciso di utilizzare questo portale, per manifestare la propria adesione, inserendovi i dati della tessera sanitaria e il numero di telefono fisso o mobile, a cui ricevere poi la convocazione per il vaccino. Poi i tempi di attesa sono andati riducendosi. Due dunque le fasi. Prima si manifesta la volontà di aderire alla vaccinazione. Poi si riceve, tramite sms o telefonata, l'appuntamento per la prima dose, in occasione del quale sarà comunicata anche la data della seconda dose. Possono inserire la richiesta e i relativi dati anche i familiari e i caregiver della persona da vaccinare. In alternativa, spiega la regione, ci si può rivolgere al proprio medico di medicina generale o alla rete delle farmacie. Ma proprio su questo fronte la partenza è stata faticosa. Oggi, peraltro, non era un click day, ovvero un giorno unico stabilito per aderire alla campagna. Ma gli inviti a non affrettarsi non sono bastati. Sono stato tempestato di telefonate da parte di molti miei mutuati anziani, dichiara il dottor Bluno Glaviano, medico di base del Sondriese. Non sappiamo bene come procedere. Ci rimpalliamo la questione con i medici, ammette la farmacista Monica Biglioli di Sondrio, perché ancora non sappiamo come processare i dati forniti dalle persone che si rivolgono a noi per attivare l'adesione. Di caos e della necessità di avere al più presto informazioni più precise dalla regione, parla anche il dottor Alessandro Innocenti, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Sondrio. Le cose, si spera, dovrebbero normalizzarsi a breve. Non oso pensare i medici di base in coda al portale, scrive il sindaco di Tirano Franco Spada, che auspicando una risoluzione tempestiva dell'inconveniente, si è attivato per creare negli uffici dei servizi sociali a pian terreno del comune uno sportello al cittadino per semplificare, a chi non è esperto di computer, le operazioni di prenotazione. Rivolgendosi agli anziani, Spada rassicura, non c'è fretta, nessuno rimarrà escluso, facciamo le cose con calma, evitiamo nervosismo e arrabbiature. Intanto ATS è impegnata con i comuni ad individuare i centri vaccinali, che non saranno gli ambulatori dei medici, ma spazi più ampi. Le persone inferme o allettate riceveranno il vaccino a domicilio dal proprio medico, cui l'adesione potrà essere espressa anche da un familiare. Dopo due ore dall'avvio del portale, oltre 12.000 le adesioni al vaccino da parte di ultraottantenni, circa 1.500 quelle effettuate tramite farmacie, meno di 100 dai medici di base. Gli utenti in coda hanno raggiunto quota 114.000, ma il sistema non è andato in tilt, spiega la Regione. Si è trattato di un rallentamento nell'invio dell'SMS di validazione del numero di cellulare inserito da parte del gestore telefonico, già sollecitato a risolvere al più presto la problematica. L'adesione può essere data senza fretta anche nei prossimi giorni, rassicura la Regione. L'ordine di registrazione sulla piattaforma, peraltro non corrisponde all'ordine in cui si verrà vaccinati. Priorità sarà data agli ultracentenari, poi si passerà agli ultranovantenni, sino a quelli nati nel 1941. Nuovo importante incarico per Mirko Dolzadelli, dirigente sindacale, nato e residente in Val Chiavenna. Oggi è stato eletto alla guida della FIM Lombardia, il sindacato metalmeccanici della CISL, che conta 50.000 iscritti. Dolzadelli è anche componente della segreteria regionale e responsabile nazionale frontalieri della CISL. La sua elezione è avvenuta stamane all'Auditorium PIME di Milano, dove si è riunito il Consiglio Generale dell'Organizzazione. Nato nel 1974, Mirko Dolzadelli si è iscritto alla CISL nel 1991 e ha iniziato la sua carriera sindacale nel 1995. A metà 2002 l'ingresso nella categoria dei metalmeccanici, nella quale ha ricoperto dal 2004 al 2012 il ruolo di segretario provinciale, poi nel novembre dello stesso anno il ruolo di segretario generale della CISL in provincia di Sondrio. A febbraio 2017 l'elezione a componente della segreteria regionale. Dobbiamo essere consapevoli che questa delicata fase storica, spiega Dolzadelli, non ci chiede solo di essere custodi di valori come la solidarietà, la responsabilità, l'uguaglianza e la libertà. Questo tempo ci chiede di tradurli in nuove conquiste e tutele per lavoratrici e lavoratori. E chiudiamo con lo sport. Ottimo quarto posto di Elena Curtoni nella gara di combinata ai mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo. Seconda dopo la prova di discesa, la trentenne di Cosio, nelle immagini del profilo Instagram della Fisi, è retrocessa di due posizioni al termine della manche di slalom, specialità a lei meno familiare. Se è vero che nelle rassegne iridate contano solo le medaglie, sia per atteggiamento che per prestazione, la valtellinese però può ritenersi soddisfatta del risultato, anche stavolta il migliore della squadra azzurra, come già era accaduto sabato, quando Elena era giunta ottava nella gara valida per il titolo della discesa libera. Ora la minore delle due sorelle Curtoni cede idealmente il testimone alla maggiore, Irene, che sarà impegnata nello slalom. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Come sempre vi ricordo che potete seguire i programmi di Unica TV sui canali 12 e 193 del Digitale Terrestre, ma ovunque voi siate e quando volete ci trovate anche sulle nostre pagine dei social YouTube, Facebook e Instagram e sul nostro portale www.teleunica.com. Grazie per averci seguito, buona serata. Grazie.